C'è ancora l'emozione nel prendersi cura di ogni paziente. La passione per il proprio lavoro è un grande gioco di squadra. Nel reparto di medicina subintensiva dell'azienda ospedaliera Marche Nord non ci si ferma mai, zero ferie e pochi rapporti con le famiglie. C'è chi non vede i propri cari addirittura da cinque mesi. L'importante è continuare la battaglia contro il coronavirus perché, come ci hanno ricordato questa mattina, sono stati davvero in guerra, soprattutto nella prima ondata del Covid-19. All'inizio, infatti, si erano ritrovati, dal giorno alla notte, ad operare nel reparto di ginecologia al San Salvatore di Pesaro. Una rivoluzione che li ha condotti, sino ad oggi, a combattere contro il nemico invisibile, a salvare i degenti o a dire addio a chi non ce l'aveva fatta. A differenza di mesi fa, però, ci sono più consapevolezza e speranza nelle cure. Marche Nord è stata la prima nella regione ad utilizzare i plasmi per immune che inizia a scarseggiare ed ora ci riprova con altri farmaci in via di sperimentazione, gli anticorpi monoclonali. L'ultima arrivata, cioè, sono degli anticorpi già preconfezionati contro la proteina S del virus. Noi sappiamo che il virus penetra, cioè, sfruttando questa proteina S. Se noi riusciamo a bloccare la proteina S, il virus non riesce più a penetrare. E se noi usiamo questi farmaci in fase precoce, quando ancora il virus deve attaccare in maniera drammatica il nostro organismo, non riusciamo a impedire l'entrata del virus. In questo modo, ci spiega il primario, sarà possibile ridurre l'ospedalizzazione fino al 70%. L'importante è che il farmaco venga somministrato nel giro di sette giorni. Il prossimo passo sarà quello di presentare all'AIFA entro il 15 febbraio un protocollo di studio. Quando partirà questo studio noi ci siamo attrezzati con un ambulatorio e con la possibilità di seguire poi questi pazienti dopo che hanno effettuato una infusione di questo farmaco che va fatta in dovena per circa un'ora, nei giorni successivi attraverso anche la telemedicina che è l'ultima innovazione che abbiamo messo a punto a Marche Nord che è ad estremamente importante. Dottore, quanti pazienti avete al reparto? In questo momento sono ricoverati 24 pazienti qui in subintensiva 2C del San Salvatore. Ne abbiamo altri 14 in subintensiva 2B nella ex neurologia. Età media? Varia molto. Abbiamo pazienti molto giovani che fortunatamente rispondono per lo più alle terapie, hanno un'adegenza anche abbastanza breve e poi abbiamo una quota parte di pazienti più anziani con molte comorbidità su cui c'è l'aggravante del Covid che hanno un'adegenza sicuramente un po' più lunga e anche altre complessità di tipo internistico da gestire insieme alla patologia Covid. La pandemia, prosegue il dirigente Mucce, è stata una prova importante per tutti sia dal punto di vista scientifico che psicologico. La quantità e la qualità del lavoro ci hanno messo a dura prova, prosegue, ma pensiamo di aver ottenuto dei buoni risultati grazie a quello che abbiamo imparato sul campo e grazie alla scienza che ci supporta. Al momento, come spiega invece Samuele Bedetta, anche la gestione dei posti letto è sotto controllo e al Santa Croce rimane attiva l'area grigia, un settore in cui vengono portati i pazienti che nonostante i due tamponi negativi hanno una condizione clinica sospetta. Abbiamo in questo setting 16 posti letto che sono coordinati dalla dottoressa Anna Di Carlo e da altri nostri colleghi e invece abbiamo altri 29 posti di aria pulita dove ricoveriamo i pazienti che sono sicuramente dal punto di vista clinico e radiologico negativi per Covid. Gestione, coordinamento, obiettivi raggiunti. Soltanto l'unione, ci racconta Cinzia Benedetti, ci ha portati a risolvere grandi problemi o affrontare ogni piccola difficoltà. Solo stando tutti insieme, come abbiamo fatto fino adesso, affrontando una cosa che non conoscevamo e superando anche magari delle piccole banalità, ognuno mettendo del suo, siamo riusciti sia dall'infermiere, io coordinatore, le mie collaboratrici, infermieri e coordinatori, fino all'OS e fino all'ultimo operatore a raggiungere gli obiettivi per dare un certo senso di umanità e professionalità che abbiamo tutti dentro. Con la speranza concludiamo di poterne uscire il prima possibile. Con la speranza di poterne uscire il possibile e andare poi tutti in ferie.